Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi della mia esperienza al Master SEMA. Purtroppo questa terza edizione è venuta a distanza, ma devo dire che la modalità a distanza si è sentita poco, grazie sia ai docenti molto presenti nei nostri confronti che grazie al gruppo classe particolarmente affiatato. Oltre ai numerosi ospiti che ci hanno fatto visita, che ci hanno fatto capire realmente cosa vuol dire lavorare nell'ambito dell'editoria, la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto sono state le esercitazioni che si sono susseguite sia al fine di ogni modulo che dopo ogni lezione teorica, perché questo ci ha fatto toccare con mano ciò che realmente stavamo studiando in via solamente teorica durante le lezioni. Inoltre, subito dopo il Master ho avuto la possibilità, e sto avendo tutt'oggi, di fare uno stage alla TUNE, casa editrice che si occupa di graphic novel e che mi sta prendendo un mondo sia per quanto riguarda il mondo del lavoro che per quanto riguarda quello dell'editoria.